ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il farmaco veterinario regumate equini ms di animal elf srl ultimo aggiornamento 2 maggio 2023 a cosa serve confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione principio attivo indicazioni posologia tempi di sospensione a cosa serve regumate equini è un medicinale veterinario a base del principio attivo al treno gest appartenente alla categoria degli regolatori del ciclo estrale e nello specifico altri progestinici è commercializzato in italia dall'azienda ms di animal elf srl regumate equini può essere prescritto con ricetta rn rt ricetta medica in triplice copia non ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare internet international bv concessionario ms di animal elf srl ricetta rn rt ricetta medica in triplice copia non ripetibile principio attivo al treno gest gruppo terapeutico regolatori del ciclo estrale forma farmaceutica fiala iniettabile confezioni regumate equini niet 1 flacone in polietilene 150 ml regumate equini os 1 flacone in polietilene 1000 ml principio attivo al treno gesto 2,2 mg barra ml indicazioni in cavalle con attività follicolare significativa durante il periodo di transizione tra la stagione di anestro e la stagione riproduttiva follicoli di almeno 20 25 millimetri presenti all'inizio del trattamento soppressione barra prevenzione dell'estro solitamente dopo 1 3 giorni di trattamento durante i periodi di estro prolungato che si verificano in questo periodo programmazione dell'estro circa il 90 per cento delle cavalle mostra i sintomi dell'estro entro cinque giorni dalla fine del trattamento e sincronizzazione dell'ovulazione il 60 per cento delle cavalle ovula tra l'undicesimo e il quattordicesimo giorno dalla fine del trattamento posologia somministrare per via orale 1 ml barra 50 kg p di giorno pari a 0,0 44 mg di al treno gesto per chilogrammi pv per 10 giorni consecutivi il prodotto deve essere aggiunto al mangime della cavalla con una sola somministrazione quotidiana oppure somministrato direttamente nel cavo orale utilizzando una siringa allo scopo di assicurare un uso efficace del prodotto la presenza di attività follicolare nelle cavalle deve essere confermata durante il periodo di transizione l'alimento medicato deve essere messo a disposizione delle cavalle trattate subito dopo l'aggiunta del prodotto e non deve essere conservato l'alimento parzialmente consumato deve essere eliminato adottando le opportune precauzioni e non deve essere somministrato a nessun altro animale non somministrare alle cavalle a cui è stata diagnosticata un'infezione uterina non utilizzare nei maschi tempi di sospensione carne e visceri 9 giorni uso non autorizzato in animali in lattazione che producono latte per consumo umano fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato ciao 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 ciao